La situazione è in pieno sviluppo, c'è appena stata un'esplosione... ...è estremamente scioccante. Anche qui arrivano voci non confermate di una forte esplosione. Come fosse un diversivo... ...vistire in volo! Le autorità cercano di capire chi, cosa o perché abbia... Ma che diavolo succede? La situazione è completamente cambiata. Continuare la fuoco! Dimmi quanto tempo mi resta. Andiamo via! Andiamo via! Andiamo via!